L'iniziativa si chiama Papati Salvo Io, organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento, mirata al coinvolgimento dei più piccoli sulle corrette condotte da tenere quando siamo a contatto con il mare e si è tenuta questa mattina sulla battigia dei bagni Carlo a Sassonia di Fano. Argomento di estrema attualità, qui dalle nostre spiagge, visti i recenti fatti di cronaca, ma che solo casualmente cade in questo periodo perché questa opera di sensibilizzazione sulle corrette condotte da tenere, l'Associazione Nazionale la porta avanti da diverso tempo, credendo fortemente nel criterio della cultura del mare come salvaguardia della propria e dell'altrui in columità. Oggi parliamo di prevenzione e rispetto delle regole in mare. Il protagonista rimane il bambino che attraverso dei giochi, si creano delle vere e proprie situazioni pedagogiche, imparano le regole da rispettare al mare. Loro attraverso questo tipo di iniziativa maturano un amore, ma soprattutto rispetto per il mare. Quindi il supporto, l'aiuto che il cane dà al bambino di salvataggio. Questa bella iniziativa dove vengono mostrate le moderne tecniche di salvamento e di corretti comportamenti non poteva che trovare forte consenso sia nell'amministrazione pubblica che nella marina militare, chiamata in prima linea sul fronte della sicurezza in mare. Cominciavano dai più piccoli che molte volte insegnano anche ai più grandi. Quindi queste iniziative sono belle iniziative, importanti e poi sono anche un modo per divertirsi e imparare. Grazie!